Buonasera, in questi giorni la parola tempo ricorre spesso nei nostri discorsi, in quelli che leggiamo o ascoltiamo attraverso i mezzi che ci informano in tempo reale dell'andamento della pandemia. La situazione di emergenza in cui stiamo vivendo ha cambiato la nostra esperienza del tempo e almeno in parte il nostro modo di parlarne. Il tempo meteorologico all'improvviso non ci interessa più. Quello che ci riguarda oggi più che mai è il tempo cronologico, il tempo psicologico, perché a un tempo ordinario, scandito da ore, giorni, settimane, con abitudini, ricorrenze, scadenze, è subentrato un tempo straordinario, fatto di sospensione e attesa per chi è confinato in casa, di concitazione, si sente spesso parlare di corsa contro il tempo, per chi è in prima linea. Le autorità ci ricordano spesso che non c'è più tempo, i medici o il personale sanitario ci raccontano di un tempo teso, concitato, a tratti disperato. Per chi ha figli in casa, al tempo pieno della scuola e delle attività ricreative, è subentrato un tempo vuoto o comunque dilatato, certamente non libero, in cui però riscopriamo passatempi dimenticati. Noi adulti torniamo a giocare e i più piccoli ritrovano il valore educativo della noia e dell'attesa. Vorrei leggervi il brano di una poesia inedita di Antonio Porta, intitolata Il tempo del gioco, e ringrazio Rosemary e Lidl che me l'ha fatta conoscere e mi ha concesso di leggervela. Con tutto il corpo si può giocare, a cominciare dalle dita, vuoi fare una partita? C'è il gioco della salvezza, quello della libertà, quello della verità. Con tutta la vita si può giocare. Non bisogna esagerare e annoiare, il gioco deve durare poco. Poi si cambia o si ricomincia da capo. Il gioco diventa nuovo, come guardare un uovo. Da bambini, giocando, si impara la vita, da adulti, si gioca per capire. Ma esiste allora un gioco che non sia un gioco e che diverta soltanto per divertire? Leggero come un non pensiero, veloce come il pensiero? Con tutto il corpo dobbiamo giocare, faticare, altrimenti è lavorare. Nelle nostre vite di corsa, così le aveva definite Zygmunt Bauman nella lezione inaugurale tenuta nel 2008 per l'inaugurazione dell'anno accademico nel nostro Ateneo. Vite dominate dalla tirannia del momento, dell'istante. Ecco che all'improvviso riscopriamo il valore del tempo. Già Seneca ne aveva fatto il tema di una delle sue riflessioni più lucide e drammatiche. Niente ci appartiene, solo il tempo è nostro. Se prima conoscevamo il tempo soprattutto per via di mancanza, di negazione, di auspicio. Quante volte abbiamo detto ho poco tempo, non ho tempo, quando avrò tempo? Oggi abbiamo la possibilità e l'occasione di riappropriarci di ciò che è nostro. Cito. Persuadi di questa verità. Una parte del tempo ci ha strappata, un'altra ci è sottratta, un'altra ci sfugge. Ma la perdita più vergognosa è dovuta alla nostra negligenza. E se vorrei badarci, noterai che gli uomini passano la maggior parte della vita agendo male. Molta parte senza agire. Tutta la vita agendo in modo diverso da come dovrebbero. Così scriveva Seneca all'ucilio. Un tempo ritrovato o riconquistato. Possiamo dedicarci ad attività che avevamo trascurato, rimandato, certo. Ma possiamo anche fermarci a leggere e a pensare. Perché il pensiero prende tempo. Lo sapeva bene Leonardo che veniva spesso rimproverato dai suoi committenti per i ritardi nell'esecuzione delle opere, anche quando si trattava di affrescare una parete. Il tempo più fecondo per il pensiero è quello indiviso, non interrotto da troppi appuntamenti, da troppe urgenze. Io vorrei appunto fermarmi e pensare con voi a come in generale parliamo del tempo. Quali sono le parole che rientrano nel vasto campo semantico della temporalità? Quali quelle che più spesso ricorrono in combinazione con il sostantivo tempo? Quali le metafore che ci aiutano a descrivere questa dimensione inafferrabile della nostra esperienza? Parto da un'osservazione legata all'attualità. In questi giorni, insieme alla parola attesa, ricorre spesso un'altra parola, distanza. Distanza di sicurezza, certo. La misura di cautela e di rispetto cui dobbiamo tenerci quando siamo in fila, ai banconi o agli sportelli, ma parliamo e teniamo anche lezioni a distanza, riunioni a distanza. La dimensione dello spazio e quella del tempo si ritrovano dunque intrecciate e non è un caso perché di fatto noi pensiamo il tempo in termini di spazio. Lo misuriamo su una linea, andiamo avanti e indietro nel tempo, parliamo di un prima e di un dopo. Spesso associamo il tempo a un percorso, a un tragitto. È il cammin di nostra vita di dantesca memoria, ma anche il quotidiano tempo breve o lungo. Quando diciamo che c'è ancora un margine di tempo, che siamo a buon punto, che ce la faremo nel giro di una settimana o nell'arco di un mese, quando cerchiamo dei ritagli di tempo nelle nostre giornate o ci sforziamo di stringere i tempi, di fatto descriviamo il tempo come una superficie spaziale sulla quale ci muoviamo. A volte però è il tempo muoversi verso di noi. Per descrivere ciò che fa il tempo inesorabilmente abbiamo a disposizione solo verbi metaforici, passare, scorrere, trascorrere, fluire, volare. Verbi cioè che trattano il tempo come un soggetto in movimento, che passa e si vorrebbe fermare, come un fiume che scorre e fermare non si può, come una freccia leggera che ha preso il volo e segue la sua traiettoria nel cielo. Anche il legame tra tempo e denaro è ampiamente utilizzato nelle reti di metafore cui ricorriamo per parlare del tempo. Si può perdere, spendere, sprecare, risparmiare o guadagnare tempo. Possiamo far fruttare il tempo occupandolo o riempiendolo come un contenitore, oppure rubarlo e sottrarlo come una risorsa preziosa e limitata che si erode e si esaurisce in fretta. Possiamo addirittura sacrificarlo, ammazzarlo, quasi a voler vendicare il destino dei figli di Crohn. Queste metafore che sono così radicate nella lingua quotidiana, nel nostro pensiero, da passare di fatto inosservate, possono essere rivitalizzate dalla lingua della poesia. Il sentimento del tempo percorre tutta la lirica novecentesca. Basti pensare, per rimanere in ambito italiano e ai nostri ricordi comuni scolastici, ai fiumi di Ungaretti o al tempo fatto acqua delle occasioni di Montale che si ingorga le sue dighe. Nella narrativa, come ci ha insegnato Harald Weirich in un'opera capitale, Tempus, le funzioni dei tempi nel testo, assistiamo invece a un diverso tipo di trasformazione del tempo, messa in atto sempre attraverso strumenti linguistici, in questo caso i tempi verbali. Nei romanzi l'uso del presente, del passato e del futuro non si conforma alla traiettoria lineare delle nostre vite o al movimento dei nostri orologi, ma è espressione di un atteggiamento del narratore che istituisce un tempo proprio, fizionale, libero di saltare dal presente al passato o di proiettarsi in un futuro immaginato. Vorrei prendere spunto proprio da un tempo tipico della narrazione, l'imperfetto, per introdurre alcune riflessioni conclusive sul modo in cui possiamo cercare di vivere con resilienza, come spesso si dice, o risorgenza, come io preferisco dire, questi tempi difficili. Prendo spunto dal titolo di una raccolta poetica appena uscita per l'editore Einauti, ora tocca all'imperfetto di Cesare Viviani. L'imperfetto è un tempo che introduce la dimensione della durata nel passato, adatto per delineare lo sfondo di eventi perfetti, cioè compiuti. Non si tratta di rimpiangere il passato e la sua presunta perfezione e imperfezione, ma di guardare alla risorsa linguistica dell'aspetto, cioè alla possibilità che certe forme verbali ci danno di considerare un evento secondo diversi punti di prospettiva, a seconda cioè che stia cominciando, che stia continuando e così via. Se consideriamo il allora spettuale dell'imperfetto, ci rendiamo conto che questo tempo verbale non ci serve solo per raccontare un passato prolungato, ma anche nel presente per mettere una distanza di cortesia rispetto all'interlocutore, in un modo che suoni meno formale rispetto all'uso del condizionale. Volevo una mascherina e un detergente per mani, dico al farmacista, intendendo che li voglio o li vorrei ora, non per un tempo che alle mie spalle, in cui non pensavo di averne bisogno. Ma non è tutto. L'imperfetto può anche portarci in un presente alternativo frutto della nostra immaginazione, attraverso la dimensione di un gioco caro ai bambini, un gioco fatto di parole. Facciamo che io ero linguisti, chiamiamo questo uso dell'imperfetto, ludico. Ma è come ora ci può soccorrere per immaginarci invincibili, a riparo, protetti. Ma se aprissimo le finestre e ce ne andassimo sul falciato e volesse il cielo che non ci fosse più alcun nemico invisibile da combattere. Perché anche il congiuntivo, dipendente o indipendente, può coniugarsi all'imperfetto. Ce lo ricorda un altro poeta, Giovanni Orelli, nella raccolta Un eterno imperfetto. Vorrei salutarvi con la lettura di altre due poesie che intrecciano alcuni dei temi che abbiamo toccato. Questa volta darò la parola a due donne. La prima poesia si intitola Chiedere dove il tempo? di Vivian Lamarck. È una poesia del 1973. Chiedere dove il tempo? Ma se è lì nei giorni? Il giorno di lavare roba bianca e domani quella colorata. Il giorno di comprare già arance, oggi di stare dentro, domani di diventare. Quello di sorprendere, di smettere di fumare. Il tempo è stirare. La seconda poesia è tratta da una raccolta di Giovanna Rosadini, intitolata Fioriture capovolte. Uscita per Enaudi nel 2018. Considera quel che è stato consumato, il tempo perso e quello passato, per ritrovare una coerenza dell'insieme, un luogo, un viso, qualcosa che tiene, ancora legati a ciò che siamo stati, il nostro allora fatto di ricordi usati. Fantasmi, logori che ancora infestano la mente, ci scurrono nel sangue e parlano un frastuono di altre lingue. Vi ringrazio, vi auguro la buonanotte e vorrei dedicare, prima di congedarmi, un pensiero a Patrizacchi. Grazie.